Benissimo, benvenuti. Vedremo come fare un barile in high poly, cioè con tanti vertici, però più realistico rispetto alla volta prima. Il scopo di questo video sarà quello di, partendo dal cubo, costruire un'asse iniziale che diventerà la nostra doga, poi di ripeterla n volte con un modificatore che si chiama array, con uno spaziaturo in mezzo. Queste varie doga verranno poi incurvate a formare un cilindro e infine questo cilindro verrà poi gonfiato all'interno per ottenere l'effetto bombato del barile. Tutte tecniche che serviranno per molti altri scopi credo che vi saranno utili. Allora, primissima cosa, facciamo 1 per andare di frontalmente, 5 in modalità orto. Facciamo scalatura Z per ampliarlo, con CTRL vedete che possiamo arrivare esatti sulla griglia. Invio. Poi scaliamo Y, Y sarebbe il verde, vedete, e quindi lo scaliamo in modo tale da rendere la... e finalmente abbiamo la nostra doga, che è semplicemente un cubo, andiamo qui lo chiamiamo doga e dopodiché aggiungiamo solo alcuni edge loop qua. Come facciamo? Andiamo in Edit Mode, facciamo CTRL R alziamo su con la rotellina, abbiamo almeno due edge loop, invio, anzi tasto destro e poi invio e quindi abbiamo una doga che così come adesso ha 16 vertici, cioè poco più di un cubo. visto dall'alto, vedremo che questa doga, su questa doga cercheremo di metterla n volte con un modificatore che si chiama Add Modifier Array. Vedete che lui lo mette due volte, ma attaccate, e noi invece vogliamo che ci sia un piccolo gap, un piccolo vuoto fra una doga e l'altra. poi possiamo metterne quante ne vogliamo, però adesso vogliamo in realtà non metterle così, ma vogliamo avvolgerle lungo una circonferenza per ottenere una sorta di forma cilindrica. Quindi dobbiamo, in Objet Mode, metterci un cerchio di riferimento, quindi SHIFT A, mettiamo una curva, BZE, BZE, ok, questa curva la scaliamo, S ho detto D? No, perché ho detto D? vabbè, rimettiamo la curva, SHIFT A, curva, eccola, e poi facciamo S, la scaliamo, l'idea è quella di farla sufficientemente grossa da poterci mettere tutte queste assi, queste doghe. Quindi torniamo alla nostra asse, che aveva l'array, gli aggiungiamo il modificatore curva, e nel modificatore curva gli diciamo che deve curvarsi attorno a questo cerchio. vedete che lui effettivamente sta cominciando a farlo, e noi gli diciamo di aggiungere tante assi, finché non andiamo a coprire tutta la circonferenza. Vedete che in questo caso è stato fortunato, è andata quasi bene, ma in generale non è detto che vi va bene. se per caso il buco è troppo largo o troppo piccolo, o addirittura si sovrappone, non preoccupatevi, prendete il bezier, e mentre ce l'avete selezionato e fate S, S, vedete che allargando, restringendo il cerchio, eventualmente aiutandomi con lo SHIFT, potete vedere esattamente quanto fare di questo buco. Perfetto, a questo punto avete messo tutte le doghe in cerchio, e questo è già abbastanza miracoloso. Se avessi dovuto farlo a mano diventava un po' problematico. Mettiamo l'ultimo pezzo di tutto ciò, magari. E l'ultimo modificatore che andremo a considerare è il cosiddetto lattice. Quindi il lattice sarà un qualche cosa che permetterà di gonfiare, o di dargli la forma che noi vogliamo. Object mode, aggiungiamo un lattice, questo, e andiamo di fronte, questo sarà un oggetto che adesso non si vede, ma se facciamo S, vedete che aumenta, ecco il nostro obiettivo, e fare in modo tale che diventi esattamente grande quanto il nostro varile. A questo punto vedete che il lattice è di fatto una gabbia, quindi chiamiamola gabbia. Allora questa gabbia la facciamo in modo tale che se la deformiamo deformerà anche l'interno. Quindi per farlo cosa facciamo? Dobbiamo mettergli nel nostro doghe, che nel frattempo ha cominciato a diventare ricco di modificatori, ne ha due, re, poi curve, e gli mettiamo un ulteriore modificatore lattice. Nell'attice gli mettiamo il lattice. Come facciamo ora a fare questa modifica? Dobbiamo prendere, selezioniamo, vedete col tasto destro, il lattice, e andiamo nelle sue caratteristiche, e gli aggiungiamo anche a lui, diciamo, due, ecco, uno e uno, quindi cliccando qua, vedete che sono comparsi dei riferimenti in più, quindi questo lattice può deformarsi lungo la zeta, anche in queste dimensioni. Quindi andiamo semplicemente a, in edit mode del lattice, G1 frontalmente, B, selezioniamo i vertici del lattice, che sono quelli, e facciamo un S, S praticamente, vedete, gonfiamo il lattice. Tutti gli oggetti che dipenderanno da quel lattice si modificheranno in modo analogo. Questo è un po' una cosa simile a quella che succede anche in altri modificatori, tipo il subsurf o altri, la differenza è che qui, lo faccio solo vedere come esempio, io posso usare il lattice per fare anche delle modifiche, diciamo, non proprio banali. ok, torniamo qui. Questo baule, come vedete, è un pochino troppo schiacciato, quindi posso usare sempre il solito lattice, questo, quindi posso selezionare tutti i punti del lattice per fare S, Z e per farlo diventare un pochino più snello. e quindi questo è, magari a questo punto, la bombatura possiamo aumentarla leggermente, S, ok, e quindi a questo punto abbiamo il nostro, il nostro barile. prossimo video vediamo invece come aggiungere gli anelli, uno qua e uno qua, e come aggiungersi eventualmente il coperchio e la base. e quindi, Grazie.